Musica E oggi è il giorno di Vet Pet & Food, la medicina veterinaria che controlla il cibo di origine animale sulle nostre tavole, cura gli animali, seleziona il meglio per la loro nutrizione, il segmento del venerdì con il contributo scientifico del Dipartimento di Medicina Veterinaria della Federico II di Napoli e dell'Ordine dei Medici Veterinari di Salerno Musica Ed oggi noi gli animali di casa, i nostri compagni con i quali abbiamo sicuramente un rapporto speciale sviluppiamo forti legami e ci capita spesso di proiettare emozioni anche umane su di loro e questo non solo è in noco ma fa anche molto bene perché sviluppa empatia ad esempio nel caso dei bambini che si accucciano come cani o come vedete qui si raggomitolano come un gatto magari anche imitando il miagolio, scattano momenti empatici, positivi il problema nasce quando cominciamo ad immedesimarci troppo con gli animali a trattarli come bambini vestiti alla moda, portarli in carrozzino, in braccio o nella borsa persino pensate a organizzargli feste di compleanno dagli cibi, farmaci o cosmetici ideati per umani quindi fanno molto male in discussione non è l'intensità dell'affetto per gli animali che invece è giusta e che viene poi ricambiata dai nostri animali ma il canale, i messaggi con i quali questo affetto viene veicolato verso di loro lo spiega mirabilmente il dottor Domenico Carratù, medico veterinario cognitivista ed esperto dei comportamenti degli animali ma io aggiungo anche dei comportamenti di noi umani risentiamolo, 13 minuti e mezzo, tutto in un fiato il concetto di immedesimarsi o di andare oltre di esagerare non è un problema di intensità ma di canale, di forma con cui perché io dico sempre, e non lo dico solo, io proprio la scuola cognitivista che non è il problema di esagerare nel sentimento anzi il sentimento più è intenso e più c'è il ritorno è il modo con cui tu dai quel sentimento cioè usare un linguaggio corretto e rispettando la diversità di specie sì, qui il cane che chiede aiuto perché il cane in basca è il cane sicuramente in una situazione di semi panico cioè nel senso che, allora, immedesimarsi nel cane dovrebbe significare non proiettare come se il cane fosse una propagine di te una parte antropomorfa di te, diciamo un figlio ma immedesimarsi significherebbe cercare di ragionare da cane usare il suo linguaggio e... bravissimo cioè dovrebbe essere il concetto completamente opposto il concetto invece di esagerare, non è tanto di esagerare ma di usare un linguaggio scorretto, una comunicazione alterata ovvero considerare il cane o il gatto come un umano quindi antropomorfizzare, dare sembianze umane e quindi trattarlo con delle esigenze che sono dell'umano e non del cane e quindi tutta quella serie di... il cappottino piuttosto la festa di compleanno è una cosa allucinante perché probabilmente un cane... io vedo cani di 3-4 mesi a cui si organizza la festa di compleanno è qualcosa di allucinante perché semmai è un cane che è entrato da poco nel gruppo famiglia si vede arrivare tutti questi ragazzini che lo vedono tipo un pupazzo movente e quella per il cane è più una fonte di stress cioè non certamente il cane si pone il problema per il cane è la vera festa, è la passeggiata nel bosco sì, certo e qui, ecco, concolarlo come un bambino qui magari ci viene anche spontaneo farlo no, ma guarda, la coccola se la fai nella maniera etologicamente corretta si chiama grooming affiliativo cioè nel branco, nel gruppo dei cani il momento dell'affiliazione empatica emotiva è importante perché solo con una relazione forte il branco è forte cioè non c'è solo la fase gerarchica c'è anche la fase ludico-ricreativa e relazionale importante è usare un linguaggio e un approccio che il cane possa intendere perché ci deve essere anche il momento in cui il cane appunto ti lecca però vedi anche l'immagine del bambino col gatto di questa ragazza dovrebbe essere sempre l'uomo ad adeguarsi al linguaggio e alle posture del cane e non portare il cane nel letto trattarlo come un bambino perché poi là si creano degli errori di comunicazione che possono sfociare anche in gravi episodi di aggressività perché l'errore di comunicazione che spesso viene misclassificato con sociopatie cioè con problemi neurologici e spesso è trattato anche dalla scuola gentilista e biavorista quello psicofarmaco è solo un errore di comunicazione ma dire solo significa che se lo individui lo risolvi ma se non lo individui del genere qui immagini anche questa emblematica una specie di compagno a cui mettere il braccio sulla spada questa qua secondo me è proprio simbolica però qua noi vediamo il binomio cioè vediamo un cane e una persona che stringono un rapporto empatico e che insieme io dico sempre non guardare mai il tuo cane negli occhi spesso come minaccia ma guardate insieme nella stessa direzione ma perché questo è il patto ancestrale fra l'uomo e il cane l'uomo e il cane si sono incontrati milioni di anni fa ed è stato l'unico il cane è l'unica specie simbionte però quando tu la prendi in sostituzione, in mancanza di una carenza affettiva interspecifica cioè ti manca la presenza di un compagno e ti porti il cane a letto ti manca la presenza di un bambino e cresci e proietti anche le tue ansie le tue paure il tuo approccio scorretto ad esempio di usare le risorse quello là non diventa più un cane che tu stai rispettando ma diventa semplicemente la proiezione delle tue mancanze e lo stai maltrattando etologicamente e qui fargli un dono come a un bambino ecco, questa è un'altra cosa questa è solo un'immagine mentre quella del bambino col gatto erano delle belle immagini questa è un'immagine solo pubblicitaria prima di tutto perché quel gesto della zamba che noi spesso intendiamo per salutarci col cane io dico sempre i cani per salutarsi si annusano allora se tu veramente volessi salutare il tuo cane o un altro cane col suo linguaggio non dico di abbassarti ma lasciarti annusare cioè il gesto della zamba è un gesto antropomorfo che il cane non capisce così come il regalo ripeto, il regalo per il cane è semplicemente farlo aderire quanto più possibile all'espressione del suo etos naturale che è quello appunto della passeggiata del gioco dell'attività cooperativa perché al cane piace cooperare con la propria figura di riferimento umano ecco, lavargli i denti come un bambino qui diciamo il cane deve lavar diciamo che anche questo diciamo che la pulizia dei denti sicuramente è corretta oppure il controllo della bocca è importante perché come nell'uomo anche nel cane ma più nel cane le razze meno selezionate che mangiano semmai crocchette e quindi già hanno una detersione spesso il problema della pulizia dentale è marginale no? perché anche in natura non esiste la pulizia dentale poi è chiaro che nelle razze più selezionate che hanno delle abitudini anche alimentari diverse si può creare il problema ma anche in quel caso la pulizia dentale non è che tu semmai un cane che fino a due anni non gli hai mai fatto una spazzolata di denti o una pulizia pensi di andare là con uno spazzolato e lo vai anche a senaturare è chiaro che abituare il cane a un massaggio gengivale a una pulizione esplorazione della bocca è sempre buona cosa ma questo lo si fa anche in maniera ludico-ricreativa cioè creando proprio un momento ludico fra del cane questa è un'altra esagerazione per esempio questa è proprio la negazione allora vi dico sempre questa qua si chiama antropomorfizzazione cioè questa è un'esigenza umana il maione non del cane il cane ha un pelo tu stai maltrattando anche la cute del cane ma soprattutto appunto tu dice il professore Marchesini che è il cognitivista l'etologo-filosofo più importante vivente e ce l'abbiamo in Italia che mettere un giubbino a un cane ovvero trattarlo come se fosse una persona vuol dire maltrattare il suo etos e non è meno grave della zointolleranza cioè del cinese che ha il cane in gabbie e lo macella perché in entrambi i casi tu non stai rispettando l'ethos di un animale che vuole essere cane e vuole vivere l'intimo rapporto con l'uomo ma da cane non da figura mitologica mezzo uomo e mezzo bambino confuso e qui anche questa è emblematica questa immagine anche questa è emblematica quando noi vediamo un momento di relax del cane il cane ha l'occhio semi chiuso però anche una manovra del genere va fatta su un cane competente cioè se noi prendiamo un cane che non ha mai visto dei bambini o che l'ha visto di lato o due bambini strani che si avvicinano relativamente al viso del cane in questo modo il cane può reagire sfigurando il volto mi è capitato non di poco di fare una vista comportamentale in cui un cane di sei anni che viveva un rapporto empatico con la sua partner umana in un momento in cui dormiva ed era un cane comunque abbastanza è andata di botta per dargli un bacetto il cane l'ha aggredito al volto allora anche in quel caso il cane lo può accettare anche in maniera gratificante ma deve avere delle competenze che certamente non gliele dai trattandolo da bambino sì certo e andiamo ancora avanti con le immagini appunto in questa nostra carrellata di foto emblematiche in cui appunto ecco qui anche questo è un altro problema che io rilevo spesso quello di coprirlo come un bambino no di coprirlo come un bambino ma di farlo dormire nel proprio letto allora far dormire il cane nel proprio letto è una sperazione io dico sempre anche con mio figlio anzi ti farò vedere qualche altro oltre con dei video come io invito mio figlio ad andare lui sul lettino del cane cioè e non portarti il cane al letto ma proprio anche per una questione di messaggio di messaggio etologicamente corretto perché condividere il proprio giaciglio col cane spesso può essere per alcuni tipi di cani con forti tembra un messaggio tra virgolette di debolezza è come dire che tu tieni tuo figlio di 10-12 anni a letto con te no c'è un momento in cui il cane va si deve rendere autonome e staccare tenere il cane a letto e trattarlo come il bambino può dare degli errori di comunicazione che poi possono sfociare in episodi di grave aggressività e poi quello di dargli il cibo insomma cibo per umane di usare il cibo bravissimo ma questo qua è un altro e l'altro brobbio sono le torte di compleanno per cane ci sono delle pasticcerie cioè trattare anche in quel caso cioè possiamo mai pensare che la gioia del cane possa essere ma io lo vedo anche con i bambini Aldo io vedo bambini di 5-6 anni che i genitori gli organizzano feste megagalattiche quando per il bambino la cosa più bella sarebbe stare 2-3 ore col padre a terra a giocare eccola qui la torta dell'happy birthday cioè per il cane se gli chiedi preferisci questa torta preferisci andarti a fare una passeggiata in campagna o rotolarti col tuo cioè il cane sceglierebbe sicuramente la seconda questo è un tuo bisogno ma lo si fa con il perché parliamo sempre di pedagogia comparata bambini e cani fino a 6 anni il bambino il processo cognitivo e l'approccio dovrebbe essere lo stesso approccio cognitivo ma è chiaramente il bambino come il cane non vive la gioia che è puramente esibizionista ed è puramente del partner romano questa è un'altra la cosmetica allora la cosmetica fin quando io voglio fare una fotografia simpatica e metto gli occhiali per 10 secondi in tutta la vita il mio cane ma quando il modus vivendi di un cane del genere deve essere questo questo è un cane maltrattato perché non è considerato cane tu stai senato la specie è una forma di maltrattamento questa qua l'antropomorfismo che è gravissima e non è meno grave della zoointolleranza di quello che c'è il cane legato per tutta la vita a catena deve essere una cagnetta ovviamente una femmina perché gli occhiali hanno montato una rosa quindi deve essere tutto in linea potrebbe essere io ho scelto questa immagine il cane rassegnato diciamo un po' rassegnato al ruolo di antropomorfizzato che il cane vuole essere restare un cane d'altra parte chi è che lo diceva Gandhi la civiltà di un paese il popolo si lo ha detto anche Schopenhauer la civiltà di un paese si misura dal modo in cui trattiamo gli animali la dice lunga la dice lunga perché diciamo il sentimento anche la legge oggi per esempio che non considera ancora proprio il cane come essere sensiente ma sempre come res però ha inserito nel codice peale il reato contro il sentimento cioè il sentimento positivo verso l'animale e garanzia di animo nobile e di tutela anche rispetto al bambino e alla società ma anche negli animali da reddito anche se io penso che l'uomo c'è la strategia la strada non dico del veganesimo ma del rispetto anche dell'animale ma anche l'animale da reddito quello che deve essere macellato va rispettato nel sentimento fino all'ultimo giorno è anche il modo con cui andrebbe macellato la Germania che è un paese come l'Austria come la Svizzera sono paesi come dire un po' più algidi rispetto a noi italiani però lì è in costituzione il ruolo dell'animale ed è considerato creatura sensiente essere sensiente ma questa è la diciamo è la dominante che ormai verrà provata anche noi receperemo ma già punire il sentimento contro l'animale non è equiparabile essere sensiente ma è il passo successivo però ripeto il trattare l'animale come un bambino che ripeto non significa volerlo più bene volerlo bene in maniera sbagliata e creare un mostro è come il genitore che è antipedagogico con il bambino e il bambino diventa un futuro serial killer cioè tu lo stai maltrattando perché non sta rispettando l'individuo e il talento bene con questa bellissima immagine di questo gatto e noi abbiamo insistito molto sul cane perché poi il cane ecco qui ma perché Aldo di condividere lo spaghetto con il cane un'altra esagerazione vivendo la simbiosi con l'uomo ma poi questo è anche un difetto di comunicazione perché se tu mentre mangi tu fai mangiare il tuo cane gli stai dando un difetto di relazione perché in natura la gestione della risorsa prevede che la figura di riferimento non mangi contemporaneamente al suo gregario cioè quindi tu qua oltre a dare uno squilibrio perché è un chihuahua che gli fa mangiare una fonte di amido raffinato come quella di spacchi feca o del intestino e oltre a quello gli dai anche un messaggio antipedagogico dal posto di vista etologico quindi stai facendo un danno enorme perché tu devi stare nel ristorantino col tuo cane e concludiamo con questa con il cane guarda con sospetto e paura e fa bene e fa bene e il farmaco perché qua ci sono due tipi di cose c'è l'esasperazione un minuto poi chiudiamo ah dicevo c'è l'esasperazione di quello che pur rimanendo nei prodotti per uso veterinario però diciamo conbre il collare con gli svaroschi al cane senza sapere che le esigenze del cane potrebbero essere ma poi c'è il massimo viene raggiunto quando tu pensi che il cane non stia bene e di due iniziative gli dai prodotti per uso umano tipo un fans un occhio un antinfiammatorio e gli fa bene un uccela gastrica convinto e anche in quel caso non lo stai rispettando nell'ethos di cane e nella fisiologia di cane e anche in quel caso grazie a tutti Grazie per la visione!